ciao raga come state spero bene allora nuovo video stavolta un po più chi è che riccio del solito allora questo video volevo farlo tra tempo ma non sto più non sapevo più come farlo perché alla fine vuole un po perché non è che non avevo voglia ma volevo dedicarmi di più alla mia famiglia così è stato c'è la mia nonna e quindi nulla allora da qui in avanti comunque ripetisco sempre le stesse cose ma vabbè dettagli vedrete video non dico di ricette ma video piatti già pronti per vedere un po quello che è pranzo i suoi video blog e perché no tante belle video passeggiate sono sempre di video passeggiate che faccio almeno spero che vi piacciono e si li vedrete in qualità basso perché ultimamente non il mio telefono non disco a editarlo in modalità alta quindi o registro con questo qua del xiaomi o registro con l'iphone io con l'iphone ci troppo bene perché mi piace è vero non c'è la pausa non c'è nulla devo staccare e riattaccare staccare e attaccare e pazienza però così tanto non mi costa nulla staccare il video e riattaccarlo in un altro esclusivo momento ma importante che mi diverto a registrare i video con passione e amore soprattutto niente ragazze questo era un video per dirvi che mi piace finalmente registrare i video di non lo so di checriccio e anche i video non di checriccio video polizia si lo so stancano un po ma mi divertono lo stesso quindi nulla scusate se ho questo specie di fastidio non dico alla colla non sono una freddata segnozzo ma ogni tanto viene segnozzo e vabbè e nulla cosa dirvi di bello che nel frattempo ho cambiato outfit opera non è lo stesso ma mi ha messo questa maglia di ieri perché era ancora pulita per fortuna non sto a cambiare 300 mila volte e quindi nulla mi ha messo questa maglia qui mi ha rifatto la doccia stamattina perché ne avevo veramente un santo bisogno vabbè non si può dire perché non è bello da dire ma vabbè dettaglio ormai l'ho detto ovviamente un benedetto bisogna di farmi una doccia perché non lo so non so voi ma io ultimamente mi sto svegliando accaldata più del solito sudo come se non ci fosse un domani e vabbè e come si può dire è è doveroso farsi una doccia tutte le mattine è doveroso ragazzi non c'è nulla da fare non è che non mi piace fare la doccia ma più che altro ho troppo caldo e quando mi sento appiccicosa per forza di cosa mi devo fare la doccia comunque nulla a parte questo e volevo fare un video che è 3 ultimi non so se lo faccio in questo video o in un altro ma a breve vi mostrerò non un sacco i prodotti che ho intenzione di mettervi in in piazza qua su youtube ovvero i campioncini che non lo sto che non sto utilizzando adesso vi parlerò dei prodotti che non sono riuscita a iniziare e basta allora innanzitutto ho terminato un sacco di prodotti che ancora vi devo far vedere e ve li faccio vedere nel prossimo giro del prossimo video qua su youtube e niente mi sto volando qua tutto attorno nella scrivania perché ho un sacco di cose qualche ancora mi devo spiegare a far vedere vabbè spiegare non si fa nulla non si non si è arrivata a nessuna parte ma è per dirvi a voi che non vedono di fare questi video che mi piacciono tanto nel frattempo mi vorrei fare anche le unghiette perché sono da un bel po che non li faccio tra l'altro qua c'è un residuo di un dello smalto ma vabbè quello basta poco per pulire le unghie scusate un po lo spadiglio ma mi sono stata piuttosto presto stamattina intorno alle 6 7 del mattino ed è per quello che ho un sorno boia non lo sono più che altro non sono neanche annoiata è solo che se non riesco a dormire oggi pomeriggio di certo di sicuro stanotte dormirò come una bambina piccola proprio bene ho dormito bene anche ieri notte solo che continuavo a girarmi e rigirarmi nel letto vabbè niente è nulla a posto allora intanto qui adesso sono che mi guardo nell'altro telefono sono le 11 e 40 non so se si percepisce aspettate no non si vede bene devo passare la luminosità per farvi capire bene che ore sono vedete no non si vede bene si si sono le 11 e 40 ecco qua e niente le 11 e 40 e io ancora non ho fatto nulla ma vabbè nel senso che non ho fatto nulla di altri video ricreativi qua sul web su youtube vabbè e e nulla bene io lo so ci saranno un sacco di critiche non me ne apporta niente continuare a fare questo video così alla buona e già poi nel frattempo qui ho il letto disfatto ma vabbè nulla stavo pensando di continuare i video altri tipi di video non solo che carici ma anche videoblog non so se ve l'ho detto video che carici asmr so che mi piacciono non a tutti ma alcuni e già questo si sto guardando voglio farvi vedere voglio farvi un video anche sul mio utileo di scuola gli anni fa quando andavo con la scuola non so se eh tra virgolette eh non so se si manco si può dire mmm su youtube svergognarmi su youtube o meno ma vabbè ci sta tanto lo fanno altre ragazze non sono l'unica che lo farò che l'avrà già fatto ma io dal frattempo ci tengo a fare questa cosa qua su youtube a parlare di più privati segreti di quando andavo a scuola vabbè non penso che la guarderanno chissà quante persone qua sul tubo forse lo farò in versione smr questo diario segreto non diario segreto più chiaro diario di school backup to school ovvero eh di quando andavo a scuola ma vabbè nulla e niente ragazzi sono già passati 8 minuti non credo che lo guarderete tutti ma ad ogni modo io vi congedo da questo video e ci vediamo al prossimo video ciao